Bella ragazzi io sono Martix, bentornati su un nuovissimo video mattutino Oggi abbiamo un qualcosa che potrebbe fare davvero tanto male ad alcuni membri della community di Fortnite Ma ad altri solo tanto piacere A quanto pare Epic Games si è fatta sentire per tutto ciò che sta accadendo riguardo a questa skin Ovvero tutti i supereroi del set senza limiti Stiamo parlando di alcune skin che potrebbero essere le più scioppate e desiderate degli ultimi 3-4 mesi Il tutto per la loro personalizzazione infinita Anche noi assieme ci abbiamo fatto di tutto e di più Abbiamo ricreato Superman, abbiamo ricreato Spider-Man Ragazzi lasciamo perdere il piccone perché è del vecchio set Però davvero se avete un po' di creatività potete farci tantissime belle cose Il fatto è che skin del genere tante volte vengono rovinate dalla stessa community Perché proprio per la personalizzazione totale che permette una skin del genere Alcune volte si va davvero oltre Nel senso che ci sono tanti utenti che decidono di utilizzare la skin in questa maniera Ma altri raga Vabbè vi faccio vedere subito Sicuramente saprete già di che cosa sto parlando Ovvero il monocolore su una skin così Un qualcosa che vi giuro ha fatto sì che io cominciassi ad odiare coloro che portavano queste skin in partita Ma non per cattiveria ma diventavano davvero brutte Modifichiamo questa skin La faccio in breve ragazzi Da superman passiamo a non so cosa ma cambiamo tutti 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 i colori Quindi mettiamo su ogni singola cosa Ragazzi passiamo al color nero Ok lo sticker lo togliamo ovviamente Togliamo anche il mantello per il momento non ci interessa il backpack Ritorniamo sulla skin Allora mettiamo la maschera ovviamente completa L'effetto sugli occhi lo mettiamo anche tutto nero ragazzi Oppure lo rimuoviamo del tutto perché no La cintura assolutamente va levata E guardate qui che cosa mi ritrovo Ovviamente l'effetto della skin andrà a cambiare seguendo il materiale che stiamo utilizzando In questo caso ho selezionato metallico Potremmo scegliere plastica ma non andrebbe assolutamente bene Torniamo su metallico e questa cosa va selezionata anche sulla seconda parte Il tutto per ottenere questo bellissimo e fantastico personaggio Che cosa ne dite ragazzi? Ecco allora da qui possiamo partire da che cosa ha origine questo video Ma soprattutto qual è la lamentela di alcuni player? Beh la mia è principalmente che una skin così tanto bella e personalizzabile è stata resa un inferno Ma ovviamente lo è in tutte le colorazioni Mi è capitato tantissime volte di beccare player in questa maniera Tra l'altro che cosa ha il muso raga? I cosiddetti monocolor Oramai li chiamiamo così Tutti questi colori ci possono anche stare perché dopo averla shoppata ragazzi ci mancherebbe Ognuno può personalizzarla a proprio piacere Il fatto però raga è un altro Non sono tutte queste cose Il problema si pone nel momento in cui una skin così E parlo proprio di queste colorazioni Viene utilizzata contro dei giocatori che giocano appunto da console Player che non possono disattivare le ombre Non possono abbassare il dettaglio delle texture e quant'altro Il tutto rende questa skin molto e dico molto Meno spottabile in game Quindi ragazzi si fa fatica a vederla in alcuni casi Non so se ricordate skin come il milite giocattolo Ma sicuramente queste skin ragazzi Queste skin sono state nerfate Anche il pattugliatore di plastica ha fatto la stessa fine Ovvero la skin maschile di questo set Skin che nel momento in cui vennero lanciate nello shop giornaliero Non avevano tutte queste macchie di fango addosso Proprio perché era molto difficile spottarle Molte volte anche io stesso In live mi mettevo in alcuni cesfugli Oppure direttamente su dei prati ragazzi Immobile Senza fare un passo E spesso e volentieri mi sono capitati player Ragazzi non vi dico Non riuscivano a spottarmi Non mi vedevano Li avevo di fianco E neppure si accorgevano Della mia presenza Lasciamo perdere il fatto che poi sono state aggiunte delle varianti E quindi altri due stili Molto belli Però ragazzi nel momento in cui venne presentata questa skin Era davvero troppo ma troppo OP E credo che la stessa cosa accadrà per la skin dei supereroi Nel senso che se vogliamo utilizzare il monocolor Aggiungeranno qualche altro effettino Magari qualche riga di altro colore Eccetera eccetera Ma credo che una skin personalizzabile in questa maniera Credo che a breve non si potrà mai più ricreare Le lamentele sono parecchio fresche ragazzi Il tutto partirebbe a quanto pare da poche ore Direttamente sul reddit Dove un utente ha chiesto Alla Epic Games di fixare Le skin dei supereroi Ed una persona dello staff A quanto pare ha anche risposto A tale post Dicendo che stanno lavorando Per trovare una soluzione A tutto ciò E quindi belli miei Prepariamoci a notare Dei piccoli dettagli Che verranno presto aggiunti A questa tipologia di skin Se siete a favore O meno di questa cosa Di questa modifica Da parte di Epic Ragazzi Voglio il vostro feedback La cosa davvero triste è che alcuni player Non riescono neppure a vedere Una skin del genere Se si trovano all'interno di Un edificio Ragazzi Infatti lo skin in questione Mi ha fatto ridere tantissimo Proprio lì In quell'angolino Vicino alla libreria Abbiamo una skin Che si sta nascondendo Crauciandosi Non so davvero Quante persone Vadano a shoppare Una skin del genere Ma io l'ho shoppata subito Perché ho pensato No Adesso ricreo Superman Adesso ricreo Spiderman Lanterna verde Di tutto e di più Tra l'altro Voi l'avete utilizzata Per ricreare Qualche vostro supereroe preferito Detto tutto ciò Io spero che finora Il video vi sia piaciuto E vi ricordo Il mio codice creatore Martex Maiuscolo Minuscolo E sempre uguale Un grazie infinito A tutti coloro Che lo stanno Già utilizzando Raga Grazie 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 Riaggiornatelo Ogni 14 giorni Noi clicchiamo su Negoseggetti E questo È lo shopp di oggi Gli alpini Sono rimasti Eccovele Qui abbiamo la crew Di Fortnite Sotto Non ci interessa Una novità Nelle emote Vedo una corda Uh Leggo seriamente 300 V-Bucks Emote non comune 300 V-Bucks Andiamo male Epic Andiamo seriamente male Eccola qui Biller in balzello All right Let's go Le 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 Segni con le mani Davvero Apprezzabile Sì raga Apprezzabile 500 V-Bucks Ma soprattutto Per il suo sound finale Bellissima Canaglia Sapientona All right Belle skin oggi Davvero belle Belle Sopra che cosa abbiamo Kuno E Kenji Ovviamente È tornata Morta Fiamma Così A caso È One You Io però Cliccherei Su salta corda No È attraversamento Grazie Epic Almeno questo Ragazzi Attraversamento Ci sta Noi Noi la Noi la Andiamo a Prendere Subito Questa Schioppatella Ci poteva stare Dai Unimote Attraversamento Del genere Ragazzi Da avere Mi farò un sacco Di chilometri In giro Per la mappa Solo utilizzandola Quindi Riscattiamo All right Continuiamo Andiamo su Kuno Vabbè ragazzi Le conoscete Questa skin 6500 V-Bucks Entrambe Preferisco Molto di più Kuno Falcone Bellissimo Che deltaplano Raga Che deltaplano Artigliascio All right Non so se avete Già riavviato Un vostro amico Ma danno Una copia Tarocca Di questi picconi Controllate Colpo rapido 500 V-Bucks Bel sound Tagliente Oh Morta fiamma Ma questo stile Non funziona mai Il terzo ed ultimo È fighissimo Voi direte Due stili Sì ma per me Sono tre ragazzi Frammento oscuro Oddio Oh mio dio Bello Ma dovi ricordate Quando abbiamo scoperto Per un bug Il secondo stile Che figata Molto prima di Halloween One you Bello 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 E poi la sua trasformazione Tramite il suo secondo stile Che bello Vediamo qui Cambia Assolutamente Sì dovrebbe cambiare Ed infatti One down Figata Sì Non vi so dire Qui ragazzi Non so se cambio Il sound Mi piace Molto bello Si tratta di un deltaplano Non enorme Di più Ma che bello Che è lì Guardate lì All right Lo shop ragazzi Si va a concludere Proprio qui Salta corda Bellissimo Miglior item Della giornata Ragazzi dai Permettetemelo Oltre agli alpini Ovviamente Questi non si toccano Io spero di esservi stato d'aiuto Ragazzi miei Mi raccomando Fatemi sapere qua sotto Nei commenti Che cosa ne pensate Di tutta questa storiella E nient'altro Noi ci becchiamo in live Oppure in un prossimo video Ma tutti Mi raccomando Se ancora siete iscritti Iscriveggiatevi Al canale A tra pochissimo Ragazzi Un saluto Noi da Martex Come al solito Un bel Ciao 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 Ciao